buongiorno a tutti oggi è una bellissima giornata vi sto per far vedere la ricetta del banana bread si quel dolcetto americano che ci vanno tutti matti buono 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 anche perché c'avevo solo le banane in casa quindi perfetto per me ve lo faccio vedere il mio è senza glutine voi potete fare con glutine o senza vi do l'opzione nella ricetta ovviamente in entrambi i modi alla fine lo glasso con una glassa al cioccolato al latte e con delle noci pecan se non avete noci pecan potete usare delle noce normali delle nocciole quello che volete o altrimenti lo lasciate al naturale lo tagliate e lo mangiate quando volete no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.